L'11 settembre scorso gli uomini della Polizia di Stato hanno notificato ad R.C. Crotonese classe 1954 un'ordinanza di applicazione della misura cautelare agli arresti domiciliari e preclusiva di comunicare con la parte offesa con qualsiasi mezzo. Tutto inizia nella serata a seguito di una telefonata al 113 nella quale una signora riferiva di essere stata aggredita dall'ex marito il quale le aveva cagionato delle lesioni successivamente giudicate guaribili in 30 giorni. Gli uomini delle volanti pertanto si mettevano alla ricerca dell'aggressore trovandolo di lì a poco e provvedevano a denunciarlo per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Pertanto iniziava una complessa attività info-investigativa che consentiva di accertare la condotta persecutoria di R.C. ai danni dell'ex moglie che andeva avanti ormai da molti anni, tant'è che già in passato lo stesso era stato già destinatario della misura cautelare del divieto di avvecinamento. Il costante lavoro e la celerità nelle attività investigative ha consentito al GIP del Tribunale di Crotone, dottor Michele Ciociola, su richiesta del PM dottoressa Ines Bellesi, di immettere un'ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari, impedendo che questa situazione di continue violenze potesse andare avanti.